Ciao! Questa è la storia di un pettirosso quantistico. Ha vissuto tutta la sua vita in Svezia, senza mai uscire, e ora, all'avvicinarsi all'inverno, sente un impulso a migrare. E allora un giorno spicca il volo e si dirige subito a 15 gradi verso ovest, ovvero non si dirige esattamente verso sud, ma a 15 gradi verso ovest. Vola per giorni e giorni, mantenendo esattamente la rotta in ogni momento, come se avesse una bussola. Vola per 10 ore al giorno, percorrendo 350 km al giorno, finché arriva in qualche posto del Mediterraneo. È la sua prima volta, così sceglie un posto che gli piace e lo memorizza. Ci tornerà ogni anno sempre nello stesso posto, così come ritornerà ogni anno dopo l'inverno al punto iniziale in Svezia. Come fa il pettirosso a orientarsi in modo così perfetto per 2000 km? A dirigersi verso 15 gradi ovest! Il fatto incredibile è che nella retina dei pettirosso vi sono delle molecole che sfruttano l'entanglement quantistico per poter misurare l'inclinazione del campo magnetico terrestre e così orientarsi. Scopriamo insieme come funziona questa sorprendente bussola quantistica del pettirosso. Per chi non mi conosce, il mio nome è Simone Baroni, sono un fisico, sono innamorato della scienza e della natura, e la mia missione è divulgare la scienza in modo accattivante. Mi invito a iscrivervi al mio canale di scienza. Che forma hanno le linee del campo magnetico terrestre? Se andiamo al polo nord e misuriamo il campo magnetico della Terra, vediamo che le linee del campo magnetico puntano verso il basso. Ovvero, se ci troviamo su una nave, il campo magnetico punta verso il pavimento del ponte della nave. Il campo magnetico è verticale e punta verso il basso. In altre parole, al polo nord il campo magnetico forma un angolo di 90 gradi con il pavimento. Se ci spostiamo a latitudini più basse, per esempio verso l'Europa e verso l'Italia, l'inclinazione del campo magnetico cambia e passa da 90 gradi fino a 60 gradi circa nell'Italia del nord e fino a 50 gradi circa in Sicilia. Più ci spostiamo verso l'equatore e più l'inclinazione del campo magnetico diminuisce finché all'equatore il campo ha un'inclinazione pari a zero, ovvero il campo è parallelo al pavimento, è orizzontale. Se continuiamo, ci spostiamo verso il polo sud, l'inclinazione continua a cambiare con il campo che punta sempre più verso l'alto fino ad arrivare a un campo di nuovo verticale al polo sud, solo che al polo sud, contrariamente al polo nord, il campo punta verso l'alto. Un altro modo di vedere la cosa è che le linee del campo magnetico terrestre escono verticalmente dal polo sud, si piegano, sono parallele al pavimento o il parallele alla superficie terrestre all'equatore e rientrano nel polo nord, sempre verticalmente. Siamo noi in grado di percepire con i nostri sensi l'inclinazione di questo campo magnetico? Assolutamente no, per due ragioni. Uno, non abbiamo un meccanismo naturale che ci permetta di carpirne l'inclinazione. E due, addirittura, il campo magnetico terrestre è molto molto debole. Immaginate, i campi magnetici che si usano nei prototipi di reattore a fusione nucleare, in cui i campi magnetici servono ad isolare il plasma che sta a 150 milioni di gradi, sono campi da 10-20 tesla, a seconda del prototipo. Mentre il campo magnetico terrestre ha un'intensità che varia tra 25 e 65 microtesla, ovvero tra 25 e 65 milionesimi di tesla, un milione di volte più piccolo dei campi che creiamo con i magneti in un reattore a fusione nucleare. La quantità di energia che il campo magnetico terrestre può trasferire a molecole dentro un essere vivente è più piccola di un miliardesimo di quella necessaria per rompere un legame chimico. Un miliardesimo! Eppure il pettirosso è in grado di percepire questo campo. Il trucco è che per percepire un effetto così piccolo il pettirosso usa un meccanismo altrettanto delicato, l'entanglement quantistico. Ecco l'idea di base. Passo numero 1. Un fotone di un'energia corrispondente al blu o al verde entra nell'occhio del pettirosso e colpisce una certa molecola. Ora vediamo di che tipo di molecola si tratta. Il fotone rompe un legame chimico tra due atomi specifici. Siccome un legame tra due atomi si crea quando i due atomi condividono due elettroni, quando il legame è rotto i due elettroni si separano. Si crea quindi una coppia di elettroni. In chimica una molecola con un elettrone libero si chiama radicale libero, quindi si creano due radicali liberi. Passo numero 2. Questi due elettroni sono in entanglement tra loro, ovvero si trovano in un unico stato quantistico per cui ciò che accade ad un elettrone influenta estantaneamente ciò che accade all'altro. È lo stesso stato di entanglement che Einstein, Podolsky e Rosen utilizzarono nel loro famoso attacco alla meccanica quantistica del 1935. Non sorprende che i due elettroni possano trovarsi in uno stato di entanglement, perché essi originano dallo stesso evento. Un fotone entra nella retina del pettirosso e rompe un legame chimico creato da due elettroni. Passo numero 3. I due elettroni sono ora circondati da atomi particelle diverse, perché ora sono spazialmente separati, quindi interagiscono in modo diverso con il loro intorno. Questo fa sì che i due elettroni possano saltare da uno stato di entanglement a un altro. Uno stato possibile è detto singoletto, in cui gli spin dei due elettroni sono orientati in modo opposto, per esempio spin su spin giù. Potete pensare allo spin di un elettrone come un piccolo magnete, che può orientarsi nello spazio. L'altro stato possibile di entanglement è invece detto tripletto, in cui gli spin dei due elettroni sono orientati nella stessa direzione, per esempio su su o giù giù. Passo numero 4. Il campo magnetico terrestre, e in particolare l'inclinazione del campo, questo si è visto in esperimenti di laboratorio, influenza questo passaggio dei due elettroni da un singoletto a tripletto. Passo numero 5. Se i due elettroni si trovano in uno stato di singoletto, allora la molecola a cui appartengono subirà una certa reazione chimica e si produrranno certe molecole come risultato di queste reazioni chimiche. Se invece i due elettroni si trovano in uno stato di tripletto, e questo dipende, ricordiamocelo, dall'inclinazione del campo magnetico terrestre rispetto a queste molecole, allora la reazione chimica prende un altro corso e si creano prodotti diversi. Ultimo passo numero 6. L'accumulazione di un prodotto di reazione o di un altro si trasforma in segnale elettrico che arriva al cervello del pettirosso e che quindi capisce qual è l'inclinazione del campo magnetico e vola nella direzione giusta. Quindi, riassumendo, un fotone colpisce la retina del pettirosso e crea due elettroni in entanglement, spazialmente separati. L'interazione tra i due elettroni e il debole campo magnetico terrestre determina se essi si troveranno più in uno stato di singoletto o di tripletto. Quello che importa è l'inclinazione del campo magnetico terrestre rispetto alle molecole presenti nella retina, che sono molecole allungate che presentano una certa direzione. Non sorprende che il campo magnetico possa influenzare lo stato di tripletto-singoletto degli elettroni, perché i due elettroni, grazie al loro spin, possiedono un momento magnetico, ovvero sono come due piccoli magneti. L'inclinazione del campo magnetico terrestre determina quindi quale reazione chimica avverrà nella retina e a seconda di che prodotto di reazione si accumula o meno, il pettirosso percepisce se si sta muovendo nella direzione giusta. Vi chiederete, ma se l'interazione tra il campo magnetico terrestre, che è molto debole, e le molecole nella retina del pettirosso trasferisce una piccolissima quantità di energia a queste molecole, a questi elettroni, come può un effetto così piccolo avere una conseguenza tangibile? Ottima domanda! Ci sono situazioni in cui un piccolo contributo può portare a grandi effetti. Nell'articolo Il pettirosso quantistico di Peter Hor, un ricercatore che si occupa proprio di questo tema, si fa un esempio bellissimo. Immaginate un blocco di granito di un chilogrammo e con forma cubica, che si trova appoggiato sul pavimento, in equilibrio. E che vi venga chiesto, è possibile che una mosca si appoggi sul bordo del blocco di granito e lo faccia rotolare su un lato? Chiaramente la risposta è no, il peso della mosca è troppo piccolo per ribaltare il blocco di granito. Ma se il blocco di granito venisse appoggiato su uno spigolo e si trovasse ora in bilico, cosa accadrebbe se una mosca si appoggiasse sul blocco. Siccome quest'ultimo è in bilico, anche il peso della mosca così piccola può farlo cadere da un lato oppure dall'altro. In fisica si dice che il blocco di granito in bilico sullo spigolo è un sistema fuori dall'equilibrio. E questo è proprio quel che succede quando un fotone rompe un legame chimico e crea due radicali liberi, due elettroni in entanglement. Si tratta di un sistema fuori dall'equilibrio. Per cui anche la piccola quantità di energia apportata dall'interazione del debole campo magnetico terrestre può far procedere la reazione chimica da un lato o dall'altro. Vi sono numerosi esperimenti che sono stati condotti e che indicano che questo è il meccanismo che permette al pettirosso di percepire l'inclinazione del campo magnetico. Uno di questi esperimenti è stato condotto nel 2008 proprio dal ricercatore che ha inventato l'analogia con la mosca e il blocco di granito. Lui e i suoi collaboratori hanno preso una macromolecola composta da tre molecole, detta CPF, dalle iniziali di carotenoide porfirina fullerene. Si tratta di una molecola dalla forma allungata che definisce quindi una direzione. Chiamiamola la direzione della molecola. Questa molecola può assorbire un fotone e dar luogo a due elettroni in singoletto o tripletto, proprio come nel meccanismo del pettirosso. La cosa sorprendente è che hanno dimostrato in laboratorio che immergendo la molecola in un campo magnetico debole e cambiando l'angolo tra il campo e la direzione della molecola potevano influenzare lo stato dei due elettroni singoletto o tripletto. Questa è stata la prima conferma sperimentale che il meccanismo della bussola quantistica esiste. Purtroppo non si sa ancora quale sia la molecola che fa da bussola nella retina del pettirosso. La molecola usata in laboratorio era una molecola che non c'entrava nulla. Sappiamo però che nella retina del pettirosso sono presenti molecole dette criptocromi e che sembrano avere tutte le caratteristiche per agire da bussola quantistica. Trovo veramente affascinante che la selezione naturale sia potuto arrivare a un tale livello di raffinatezza. Il pettirosso quantistico. E voi cosa ne pensate? Prima di salutarvi voglio ringraziare tutti coloro che si sono abbonati al canale youtube di Pepite di Scienza. Grazie al vostro contributo sostenete il nostro lavoro e fate la differenza. E noi possiamo continuare a creare altri video. Se anche voi volete contribuire a Pepite di Scienza è facile. Cliccate su abbonati sotto il video e scoprite i vantaggi che vi offre l'abbonamento. Il contenuto di oggi è stato ispirato dalla lettura del libro La fisica della vita di Jim Al-Khalili e John Joe McFadden. Vi lascio il link al libro in descrizione. Ciao e a domenica con un nuovo video.